Allora, iniziamo. Abbiamo atteso qualche minuto oltre l'orario delle nove, il mezzo quarto d'ora accademico, diciamo, visto che online cerchiamo un po' di accelerare i tempi. Buona serata a tutte e tutte le persone che sono connesse. Sono Adriana Rati di Storeco, dell'Istituto Storico della provincia di Reggio Emilia e ho il piacere questa sera di introdurre questa bella serata in cui potremo riflettere su un appuntamento importante. Questa è la prima iniziativa di una rassegna che celebra una serie di ottantesimi anniversari storici, ottantesimi anniversari storici importanti per l'Italia e per il mondo e per tutto il secondo conflitto mondiale. E partiamo con Invasori, non vittime, la campagna italiana di Russia dal 1941 al 1943, il libro di Thomas Schlemmer, che ringraziamo per essere qui questa sera per parlarne, assieme ad Amedeo Osti-Guerrazi, che è il curatore della versione dell'edizione italiana del volume, è un momento importante, questo sia perché appunto celebra l'inizio di questa rassegna dei tantesimi e perché la celebra anche con un appuntamento che è cruciale. Gli ottantesimi italiani sono poi rese, sconfitte, tanti problemi. Questa comunque, anche se si parte dalla campagna di Russia, è un'iniziativa che parte da una vittoria, da una delle vittorie belliche più importanti dell'intero secondo conflitto mondiale e probabilmente della storia militare in senso assoluto, ovvero sia la vittoria della battaglia di Stalingrado. pochi giorni fa abbiamo ricordato l'ottantesimo esatto, ovvero sia il 2 di febbraio, il giorno in cui arriva la resa dell'esercito tedesco e di tutte le truppe anche adesso alleate, che erano impegnate da due anni ormai sul fronte di Stalingrado, il cosiddetto saliente di Stalingrado cede completamente, a quel punto, insomma, finisce, tra virgolette, l'avanzata, l'ondata forte dell'esercito nazista ed è una data che davvero cambia la storia dal punto di vista militare perché segna la fine dell'avanzata e l'inizio invece dell'erosione, dell'erosione militare che porterà poi alla sconfitta del nazismo e di tutti gli alleati ad essi connessi, tra cui in quel momento ancora anche l'Italia fascista. E questa sera ci piace parlare di questo ricordando cos'è stata la campagna di Russia anche per l'Italia. Il titolo del libro di Thomas è chiarissimo, invasori e non vittime. Insomma, una certa retorica tende a ricordare quell'impresa come se fosse un'impresa gloriosa, mentre è stata una missione militare al fianco di un esercito alleato che aveva tra i propri obiettivi lo sterminio di diverse razze e tra l'altro anche della popolazione slava, russa, considerata inferiore. Quindi con tutte le sofferenze che ha comportato per il popolo italiano, che sono tante e chiarissime, ci piaceva anche ricordare questo innanzitutto con la data della vittoria, della vittoria di chi quella avanzata l'ha fermata a prezzo di sacrifici umani altissimi. E allo stesso tempo ricordare qual è stata la vera dinamica di quella missione militare, che non è stata certo una missione di pace, ma è stata una missione di invasione al fianco di uno dei principali, più vasti, progetti di sterminio programmato che è la storia dell'uomo ricordi. Quindi insomma fare chiarezza anche su questi punti, Thomas l'ha fatto nel libro, e stasera magari il compagno di Amedeo ce ne parlerà. Ultima cosa, questo volume, questo bel volume edito dalla terza, è ancora acquistabile, lo trovate tranquillamente in ogni libreria, potete ordinarlo, quindi magari a fine serata potete anche fare un pensiero a prenderne qualche coppia. Io adesso mi taccio, lascio la parola ad Amedeo che introdurrà il dialogo con Thomas. Buona serata. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato. È per me un piacere particolare parlare del libro di Thomas Lemmer, non solo perché io e Thomas siamo amici ormai da tanto tanto tempo, pure troppo, stiamo diventando vecchi Thomas, ma anche e soprattutto perché questo è un libro particolarmente importante. Io dirò due parole soltanto sul libro e sull'importanza che ha avuto per la storiografia italiana, per poi appunto dialogare con Thomas e facendogli qualche domanda. Questo è un libro importante perché l'inglese lo definirebbe un groundbreaking book, cioè un libro che ha aperto una stagione di studi e ha aperto delle vie di ricerca. Perché? Perché è stato il primo libro sulla campagna di Russia che ha riflettuto non tanto su come hanno combattuto i nostri, tra virgolette, o se hanno combattuto meglio o peggio dei tedeschi, si sono arresi un giorno prima o un giorno dopo rispetto ai tedeschi. Ma è un libro che ha riflettuto sul ruolo degli italiani in quella che era una guerra totale, una guerra di annientamento, una Schicksal Krieg, come dicono i tedeschi, cioè una guerra del destino, per cui in senso letterale, ma quindi una guerra appunto totale, uno scontro tra due ideologie differenti e incompatibili tra loro, in cui gli italiani hanno preso parte. E quindi il libro di Thomas non è tanto un libro sulle operazioni militari, o meglio non solo sulle operazioni militari al fronte, nello scontro diretto con l'esercito sovietico, ma anche e soprattutto su come gli italiani hanno vissuto questa campagna, i soldati italiani hanno vissuto questa campagna, su come si sono comportati anche dietro al fronte, quali erano i rapporti con le truppe tedesche, quali erano i rapporti ad esempio con la popolazione civile, quale è il ruolo nella repressione dei partigiani. Insomma una serie notevoli di dubbi e di domande che Thomas pone alle fonti e che ha cercato di rispondere come cercheremo di vedere nel corso della serata. e io partirei da una citazione proprio dal libro, a pagina 5, Thomas tu scrivi sulla campagna di Russia si è scritto molto, ma si è fatta poca ricerca. Ecco, secondo te perché si è sempre fatta poca ricerca fino a pochi anni fa sulla campagna di Russia? Beh da prima vi ringrazio per l'invito, per poi parlare della campagna di Russia, un argomento che seguo ormai da così 20 anni, a me devo tu lo sai bene, e anche della pubblicità che Adriano ha fatto del mio libro e mi fa tanto piacere. Vabbè, scrivere e ricercare non è, a me l'ha detto, lo stesso. Chi ha scritto sulla campagna di Russia? Erano i reduci. E già è prima che la guerra sia ancora finita. Se parliamo di ufficiali come Giusto Toloi che faceva la campagna di Russia come membro dello Stato Maggiore del Comando Supremo dell'Otava Armata cioè con Italo Gariboldi che ha scritto il suo libro già pubblicato il suo libro già 44 nel Regno del Sud. Questi reduci hanno fatto la strada di una interpretazione della campagna di Russia che era quasi santa. Non è stata messa in dubbio e se chiamiamo in causa alcuni di questi reduci vediamo l'importanza che aveva la sua contribuzione per l'interpretazione della campagna di Russia. Io faccio solo tre nomi. Giovanni Messe per primo il generale comandante del corpo di spedizione al fronte russo prima magari il generale più stimato nel tutto l'esercito di Benito Mussolini che facevano splendida carriera da sotto ufficiale fino al maresciallo d'Italia che ha scritto, pubblicato il suo libro La campagna di Russia se non mi sbaglio in 46-47 tradotto in tedesco già in 48 e la interpretazione era abbiamo combattuti come eroi ma non ci siamo marcati con nessun crimine come l'hanno fatto i tedeschi noi abbiamo combattuto la nostra propria guerra all'italiano poi il secondo reduce che voglio menzionare è Mario Ricconi Stern il sergente nella neve anche questo libro è quasi canonico è un libro che si legge ancora nelle scuole anche questo libro uscito all'inizio degli anni 50 è stato tradotto in tedesco uno dei pochi come quello di Messe che è stato tradotto in tedesco e questo racconta più o meno la stessa storia che ha raccontato Messe dal basso lui è sotto ufficiale degli Alpini che ha fatto che ha fatto tutta la ritirata e scrive come hanno combattuto bravissimi e sono stati vittimi dai russi vittimi dalle circostanze dal clima e non e dalla fine dai tedeschi e il terzo che voglio menzionare è Nuto Revelli mai tardi magari uno dei libri sulla Russia più noto è Nuto Revelli che ha fatto il partigiano dopo 43 ha aggiunto un'altra cosa più o meno una rabbia contro i tedeschi che è uno dei filoni rossi di tutto il libro già nelle prime pagine del libro fa il ragionamento chi odiare di più il nemico russo o i tedeschi falsi fratelli d'Arni queste interpretazioni anche se politicamente si distinguono fra di loro hanno alcune cose insieme l'eroismo il vittimismo degli italiani una certa rabbia contro i tedeschi e la convenzione che la guerra italiana non aveva niente da fare con la guerra di sterminio che conduceva l'esercito tedesco sotto la guida nazista in Italia e se vediamo un po' dove hanno pubblicato questi redugi c'è un libro abbastanza famoso da Mario Isninghi luogo di memoria in Italia uscito beh aiutami nel 2009 credo no no più o meno verso il libro tuo verso intorno al poco prima del libro tuo c'è il un luogo di memoria è la ritirata di Taldorn e chi l'ha scritto non ha scritto uno storico l'ha scritto Muti Rebelli e questo dice tantissimo quelli hanno sostituito quasi la ricerca storica con la memoria e per questo è stato scritto tanto quasi escono ancora testimonianze e diari e libri dal campo e ancora sono più testimonianze di ricerche il primo direi che ha scritto un'ottima ricerca all'inizio degli anni 90 alessandro massignani alpini e tedeschi sul don lui ha fatto il primo che non è solo andato negli archivi militari italiani ma anche nel Bundesarchiv Militärarchiv nell'archivio federale delle forze armate a Friburgo e ha confrontato i documenti italiani con quelli tedeschi e il risultato era per il tempo allucinante ma tu hai parlato giustamente appunto di memoria quasi tutti i reduci di tutti i fronti diciamo così hanno due luoghi centrali della memoria chi è stato ad esempio nei Balcani il luogo centrale è l'8 settembre i reduci di Russia e la ritirata mi viene in mente Giulio Bedeschi ad esempio 100.000 cavette di ghiaccio o anche la sua raccolta di memorie questa centralità dell'8 settembre e della ritirata di Russia quindi trasformano italiani appunto da invasori in vittime e questo Adriano ha cominciato con il ricordo dell'ottantesimo anniversario di Stalingrado questo è un po' è lo stesso meccanismo se parliamo e se vediamo la memoria tedesca sulla battaglia di Stalingrado la memoria che ha dei geni era più o meno la stessa si sono difesi a Stalingrado si sono difesi a Stalingrado contro un nemico terrificante dell'armata rossa nelle circostanze micidiali senza rifornimenti con temperature bassissime e nessuno ha chiesto come sono arrivati a Stalingrado quindi si sono un po' cambiato i fronti usando la propria passione per cambiare il ruolo dell'invasore dell'aggressore e del difensore e quindi secondo me questo è l'anello e poi così nessuno poteva più chiedere che cosa hanno fatto dal agosto 41 quando i primi reggimenti italiani hanno cominciato a combattere al fronte russo fino alla ritirata del Don tutto quello e tutta la storia della campagna di Russia è stata ridotta ai mesi dicembre 42 e gennaio 43 anche i mesi dopo sono quasi completamente sconosciuti fino ad ora anche io non ho scritto tantissimo sui mesi fino a maggio giugno 43 quando le ultime truppe italiane lasciano il fronte orientale il secondo corpo d'armata e questo non è una cosa da trascurare perché stanzati in Russia bianca ci sono ancora riparti italiani che danno la caccia ai partigiani che vivono la fratellanza d'armi con i tedeschi e ci sono un sacco di documenti più o meno non consultati finora per cui questa centralità della guerra difensiva diciamo così possiamo definirla anche un po' un retaggio della stessa propaganda fascista perché in fondo la guerra in Unione Sovietica è una guerra difensiva cioè noi siamo andati lì noi italiani e noi tedeschi siamo andati lì per difenderci dal mostro bolshevico slavo fondamentalmente era una guerra d'aggressione ma era anche una guerra difensiva contro una possibile e probabile aggressione da parte dei russi beh questa interpretazione nazista in Germania appare più o meno solo in 42 quando la progettata guerra lampo è fallita prima delle porte di Mosca in dicembre 41 poi apparano questi miti della guerra preventiva che in 41 anche nella propaganda di Josef Goebbels non c'erano questo è una costruzione per legittimare la guerra che diventava sempre più lunga e anche per spiegare il momento dell'attacco non c'era altra scelta non poteva non abbiamo potuto più aspettare in 41 quando vediamo la legittimazione della guerra dei tedeschi le legittimazioni erano diversi bisogna combattere contro i russi per battere gli inglesi se mettiamo fuori scrive Hitler se mettiamo fuori i russi l'armata rossa non c'è più la spada del continente da festlandstegen degli inglesi e poi c'era sempre l'idea dello spazio vitale all'est e poi si credeva che questo impero russo come si diceva un colosso dai piedi d'argilla grazie questa era l'idea di 41 è stato man mano in 42 43 in questa propaganda della guerra difensiva preventiva che è stata quasi più o meno imposta all'asse dai russi ma questo è anche dovuto al corso della guerra che andava sempre meglio per le potenze dell'asse e per gli italiani come veniva per i soldati italiani come veniva giustificata questa guerra come spiegavano gli ufficiali che bisognava arrivare andare sul don a combattere in 41 ci sono due fasi da distinguere secondo me quello del corpo di spedizione in estate 41 e poi quello dell'armata italiana in Russia nell'ottava armata in estate 42 da prima la propaganda segue un doppio filone anzi magari anche un triplico filone e il primo questo tradizionale nazionalista militarista il soldato italiano che combatte eroeicamente da qualsiasi fronte e crea onore a se stesso alla nazione e alle armi dell'esercito secondo filone per la fascista bisogna combattere finalmente contro il nemico eterno russo bolshevico più o meno collegando questa legittimazione della guerra ai primi anni 20 quando i squadristi fascisti hanno combattuto più o meno la guerra civile contro i socialisti e comunisti e tutto quello che era di sinistra e il terzo filone che si collegava su un lato anche su quella seconda fascista era la spiegazione della cittimazione cattolica bisogna combattere i senza dio e qui giocavano un ruolo molto importante i cappellani militari con le sue messe da campo quando apriamo i diari storici delle truppe combattute c'è spesso scritto il cappellano ci ha fatto una bellissima messa di campo ci ha spiegato perché combattiamo bisogna combattere senza dio e bisogna civilizzare e missionare questa terra bolshevica anche sotto questa legittimazione si poteva anche spiegare questa guerra come una guerra di liberazione da un fino ad un certo punto e se vediamo le lettere dal campo da questa fase di 41 42 erano tanti soldati che hanno ripetuto quello che hanno letto hanno sentito hanno ascoltato nelle messe da campo quindi questa propaganda fascista nazionalista e cattolica fu abbastanza efficace e poi c'era anche un quarto elemento questa della fratellanza d'armi dell'asse per dimostrarsi un aliato fedele anche completamente diverso dalla prima guerra mondiale marciamo fianco a fianco fino alla vittoria finale secondo il destino comune di di queste nazioni fascisti naziste anche questo in 41 si legge tantissimo in 42 quando la guerra soprattutto quella italiana andava già beggio di 41 il scettizismo era più sparso che in 41 e soprattutto anche fra gli altri ufficiali questa guerra fu più sentita come quella tedesca e qui era un po' uno scambio noi mandiamo truppe in Russia per l'aiuto che i tedeschi ci danno in Africa selezionale quindi uno scambio in una guerra di coalizione tu hai parlato di appunto di svariati filoni della propaganda quella cattolica ad esempio cioè tu mi hai fatto conoscere quel bellissimo film che è l'uomo della croce che è un film mi sembra del 43 in cui appunto l'uomo della croce è questo cappellano militare in Russia che porta il Vangelo ai russi per cui una guerra anche per liberare il popolo russo ucraino schiasciato dai bolshevichi ma quali erano poi in realtà i rapporti delle truppe italiane con la popolazione civile questa è una domanda abbastanza difficile perché questi rapporti erano moltiplici diciamo dipende dalla fase di guerra dipende dal tratto di fronte dipende che erano in compatimento o in zona di occupazione tranquille in retrovia e questo è un po' da mettere in considerazione nelle memorie dei reduci lo scrivono i russi e gli italiani si volevano abbastanza bene uno un reduci ha scritto addirittura senza i tedeschi il contadino russo non avrebbe mai sparato al contadino italiano e viceversa due popoli in fondo buoni con buoni e anime ampie e aperte che più o meno facevano questa guerra non sentita e non capita secondo la volontà dei tedeschi questo è il narrativo che conosciamo tutti e se vediamo adesso quello che succedeva veramente vediamo che gli ordini del comando supremo italiano per esempio per organizzare le retrovie non erano molto diversi dai quei tedeschi quindi rappresaglia contro ciascuna resistenza con reazioni molto aggressive rappresaglia dei partigiani la significanza dei comunisti come nervo della resistenza una presunta resistenza e gli ebrei come portatori dei partigiani anche questo che hanno fatto i tedeschi per organizzare la retrovia hanno fatto anche gli italiani e poi se vediamo un po' quello che scrivono i russi per gli italiani è interessante che non si vede tantissimo questi buoni rapporti che gli italiani descrivono nelle loro testimonianze loro parlano di violenza loro parlano dei furti loro parlano del sfruttamento delle risorse locali perché anche gli italiani scarsacciavano dei rifornimenti da dietro e quindi non c'era tantissima differenza fra secondo i rapporti con la popolazione civile fra italiani tedeschi e russi quando hai cominciato a studiare questi argomenti quanto sei rimasto sorpreso della differenza tra il master narrative italiano tra le memorie appunto dei reduci e quello che poi hai visto negli archivi italiani quindi questo vittimismo italiano si collega abbastanza bene con il mito della Wehrmacht pulita in Germania che è stato però fortemente contestato dalla ricerca storica negli anni 90 e per questo noi in Germania abbiamo già sorpassato diciamo delle interpretazioni anche politici chiamiamoli così e così non sono stato così sorpreso anche se appunto anche in Germania il percorso verso un superamento di questi miti è stato lungo noi in Italia abbiamo questa leggenda che invece i tedeschi immediatamente hanno fatto i conti con il passato invece non è stato così mi dici almeno non è una sola success story è stato come ho detto un percorso lungo i primi che hanno fatto le interpretazioni sulla guerra della Wehrmacht erano appunto i generali e i pariscialli a partire da Manstein fino a Kesselring e loro hanno raccontato la loro guerra in queste storie non c'era spazio per una guerra di sterminio appunto a proposito di guerra di sterminio vorrei tornare però poi anche sulla tua esperienza di ricercatore tedesco in Italia che parla degli alpini ma quali erano i programmi italiani anche economici di sfruttamento ci sono tracce di programmi italiani di utilizzo del territorio questo è una domanda molto interessante e importante c'è un saggio abbastanza famoso di Enzo Colotti sulla strategia italiana durante la seconda guerra mondiale secondo sulla fronte russa sulla campagna russa scrive non aveva più o meno nessun senso non c'era anche un quadro strategico dietro questo non è vero c'erano delle interessi economici abbastanza ovvie se per esempio diamo un'occhiata sul diario storico di Ugo Cavalero del sottosegretario all'economica bellica all'economia bellica Favagrosso c'era la speranza in 41 di fare una prida bellica abbastanza ampia per poter potenziare la produzione delle armi nella madre patria italiana che cosa ci si aspettava acciaio nel bacino del Donets carbone grano e grano dell'Ucraina il petrolio dell'Amenia e dell'Azerbaijan quindi questi erano gli scopi non solo dei tedeschi ma anche degli italiani già in 41 e poi anche in 41 e 42 c'erano delle trattative su livello del governo per condividere la prida bellica economica fra l'Italia e la Germania e quella parte che volevano avere gli italiani come spazio economico diciamo si è fatto fino ad un terzo dell'Ucraina diciamo quindi un programma di sfruttamento e anche della colonizzazione che è poi sparita dopo la sconfitta di 42 e 43 dell'Inferno ma è stato ancora trattato in settembre ottobre 42 un affare abbastanza sconosciuto finora un Lebensraum uno spazio vitale italiano che no e invece sullo sfruttamento ad esempio dei prigionieri o l'utilizzo dei prigionieri quali erano le politiche italiane per quanto riguardano le risorse locali magari cominciamo per questa parte dato che i rifornimenti scaracciavano sempre anche gli italiani la intendenza italiana hanno usato tutto quello che hanno trovato sul posto cibo animali sia quelli da mangiare sia quelli da traino tutto 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 quello che necessario per costruire postazioni da campo veicoli sia vestiti e anche vestiti dell'inverno tutto quello che serviva le truppe per combattere più efficacemente hanno usato senza nessun riguardo alla popolazione civile e per quanto riguardano i prigionieri mess scrive che le truppe italiane i prigionieri che avrebbero fatto avrebbero consegnato più o meno subito ai tedeschi ma questo non è vero questo non è vero c'era un accordo fra i comandi suprimi che i prigionieri russi fatti dagli italiani rimanevano nelle mani italiane e infatti c'erano dei campi di concentramento per i prigionieri russi gestiti dagli italiani e l'idea era anche di trasportarli in Italia come manopera ma questo era più o meno un'impresa abbastanza ingombrante trasportarli tramite ferrovia cia sovraccarica dall'Ucraina o dalla Russia in Italia l'idea era poi un'altra gli italiani hanno consegnato i loro prigionieri ai tedeschi e in cambio avrebbero avuto quelli già al confine fra l'Austria e l'Italia dove c'erano alcuni lager nel Tirolo settlionale ma quando gli italiani ci sono andati per scegliere i prigionieri come manopera il loro stato era così che non erano più in grado di lavorare e poi tanti erano malati anche di come si dice fleckfiber tifo pidecchiale tifo pidecchiale grazie molto molto temuto dal governo italiano e per questo hanno rinunciato all accordo dello scambio dei prigionieri e poi in 42 c'era più o meno una gara tra i prigionieri sia le varie truppe italiane sia fra gli italiani e i russi perché da prima non c'erano così tanto come erano ancora in 41 perché se ne facevano di meno e erano molto importanti come manopera vicino al fronte per costruire strade per riparare binari per ricostruire tratti della ferraria per poter rifornire più efficacemente le truppe sul don ma c'erano i rapporti dei rapporti dei medici italiani che dicono più o meno che anche quelli tanti dei più o meno diecimila russi che lavoravano per gli italiani venivano quasi consumati per questi lavori che dovevano fare con poco cibo con vestiti non adatti e senza attrezzi certo abbastanza impressionante lo scarto che abbiamo sempre tra quella che è poi la memoria appunto il master narrative che ancora è molto forte in Italia invece come appunto il mito dell'italiano brava gente della campagna di russia come una guerra tutto sommato pulita e poi quello che viene fuori mi permetto di segnalare che sta per uscire tra poco un libro di Isabella insolvibile una collega che lavora alla fondazione museo della Shoah sui prigionieri angloamericani nelle mani italiane e il titolo sarà non so se lo posso dire comunque è la cosa molto interessante che Isabella ha scoperto che quella che veniva considerata dagli inglesi americani una prigionia migliore rispetto a quella che avrebbero avuto in Germania si rivelò poi una prigionia terribile perché semplicemente perché gli italiani trattavano malissimi i loro prigionieri un po' per mancanza di risorse ma un po' anche perché c'erano dei fiori di farabutti tra i comandanti dei campi di prigionia io mi chiedo ai nostri gentili ospiti quanto tempo ancora abbiamo se vogliono far fare delle domande anche al pubblico se possiamo andare avanti ditemi voi come volete che proseguiamo grazie mille sia a Thomas che ad Amedeo ecco direi che se c'è qualche domanda dal pubblico potete scriverla in chat questo l'appello è agli spettatori potete scrivere in chat e noi riportiamo ad Amedeo e Thomas altrimenti visto che ormai sono quasi dieci se nel frattempo ho un'ultima domanda di Amedeo per vedere insomma ma come andiamo avanti è in attesa se ci sono eventuali curiosità dal pubblico va bene? Eh l'ultima domanda è quella più scabrosa diciamo così Thomas come è stato ricepito come è stato accolto il tuo libro in Italia? Da un lato molto bene io ricordo solo quello che avete detto voi Adriano e Amedeo un libro che ha aperto una porta una porta abbastanza chiusa da questa master narrative che si basava alle testimonianze dei reduci e che si collegava con altre ricerche su altre fronte soprattutto sui Balcani già in corso dalla seconda metà degli anni 90 quindi sull'ambito della ricerca vera il libro è stato accolto molto bene direi e nell'ambito dei reduci delle associazioni di meno per dire il minimo appunto c'era una lettera aperta sul giornale Avvenire che mi ha proprio detto di andare a casa da tedesco di fare miei che noi tedeschi dobbiamo sempre trattare con Auschwitz invece gli italiani beh come sapete non potevano neanche fare una guerra vera questo è più o meno un po' il il raggio delle reazioni dall'ambito scientifico direi è stato accolto molto bene da quelli da quello militare e dei reduci di loro organizzazioni di meno se non sbaglio c'era una lettera un articolo di giornale non so se la stessa che hai citato te che diceva alpini allarmi un panzer tedesco vuole in sanguina in sanguina ancora la memoria dei reduci era una cosa abbastanza abbastanza ridicola e anche perché se non sbaglio poi la lettera diceva almeno una lettera diceva io non ho letto il libro ma già il titolo mi dice che è tutto falso ci sono delle cose che non possono essere perché sono proibite più o meno la memoria soprattutto la memoria degli alpini credo che sia particolarmente particolarmente sensibile anche perché appunto io sono cresciuto in una famiglia dove diciamo si leggeva Giulio Bedeschi e poco altro sulla seconda guerra mondiale eccetto solo memorie di reduci per cui oggettivamente come sai io appartengo da una famiglia di alpini ho fatto l'alpino anche io quando ho fatto servizio militare quindi conosco un po' la gente conosco un po' la loro mentalità e conosco anche i blocchi della memoria che rifiutano di accettare questi lati scurissimi di una guerra di sterminio al fronte orientale rimaniamo in tema visto che è arrivata una domanda di Giuseppe Viviano che ringraziamo che chiede a Thomas cosa pensa dell'istituzione in Italia di una giornata della memoria dedicata agli alpini e dedicata a una data il 26 gennaio che è quindi legata alla ritirata di Russia alla battaglia di Nicola Yevka questa domanda mi sono un po' aspettato beh io credo che la creazione di tornate di memoria a singoli eventi della seconda guerra mondiale sia un errore perché perché normalmente manca il contesto il 26 gennaio 43 la memoria sulla cosiddetta battaglia di Nicola Yevka dove le truppe italo-tedesche c'erano anche i tedeschi lì hanno rotto l'accercamento russo e si è combattuto la via libera all'ovest questo va bene no si ci si ricorda al alla salvezza di 25.000 uomini ma il contesto della guerra al fronte orientale questa guerra di sterminio questo viene completamente trascurato per questo secondo me giornate così sono una memoria sbagliata diciamo oppure un metodo di una memoria sbagliata perfetto grazie ci sono altre domande una domanda di un parere se vale sia per entrambi diciamo sia per Thomas che per Amedeo se un parere sui volumi di Giorgio Scotoni sulla campagna di Russia realizzati utilizzando fonti sovietiche il secondo scusa così te le faccio in fila così arriviamo verso la conclusione invece è più delicata quale è stato il coinvolgimento degli italiani in Russia nella questione ebraica durante l'occupazione beh magari ci condividiamo le domande prendo io la prima su Scutoni e tu la seconda Amedeo va bene i libri di Giorgio Scotoni sono importanti perché hanno per primo usato fonti italiane in archivi russi quindi quello che le truppe italiane non potevano più riportare indietro ma la cosa che mi è un po' colpito io non ho letto molto di nuovo perché la gran parte dei documenti italiani in archivi russi si trovano anche in altre forme in altre coppie nell'archivio storico dello stato maggiore dell'esercito interessante sono le interpretazioni dei generali italiani in regionia russia e c'erano quelli che hanno più o meno ammesso la sconfitta e quelli che credevano ovviamente ancora in gennaio 43 alla vittoria finale delle potenze dell'asse quindi i libri di Scuttoni hanno ancora ampiato quello che sappiamo sulla campagna di Russia ma secondo me non ha cambiato tantissimo la interpretazione scientifica generale vado io sì beh sappiamo prima di tutto bisogna tener conto che gli italiani vedono tutto sanno tutto lo vedono i militari lo vedono i politici c'è un rapporto del segretario nazionale del partito fascista a Mussolini del 42 in cui racconta ampiamente quello che succede ci sono articoli sui giornali ad esempio il massacro di Assi fatto dalle truppe romene viene pubblicato due articoletti vengono pubblicati già nel 41 vengono pubblicati sul popolo d'Italia con le foto con le foto con le foto ci sono i racconti dei reduci della Russia già nel 42 cioè soldati che tornavano in licenza o perché malati o perché feriti che raccontano quello che hanno visto e vengono intercettati dalla polizia segreta fascista in cui appunto i soldati italiani raccontano quello che hanno visto per cui tutti sapevano tutto i rapporti tra cui appunto alcuni pubblicati da Thomas ci dicono che i commissari politici e quindi anche gli ebrei venivano consegnati alle autorità tedesche e sapendo benissimo che sarebbero stati uccisi non so Thomas se tu hai mai trovato rapporti diretti di fucilazioni da parte degli italiani di ebrei mi sembra di sì che tu le abbia trovato o coinvolgimento comunque di italiani nelle stragi di massa quello che è sicuro che gli italiani sapevano dove stavano andando cosa stavano facendo e con chi stavano collaborando per quanto riguarda l'organizzazione dello sterminio le truppe italiane erano coinvolte più o meno come truppe paragonabili della Wehrmacht cioè a Yenanchivo oggi ricomo questa città ucraina era condotta da un comando tappa italiano e in tennaio febbraio 42 i tedeschi volevano avere in consegna la popolazione ebrea non era un problema sono stati consegnati il comando italiano sapeva perfettamente quello che succederà oppure a Golovka lo stesso con un sondacomando della responsabile Einsatzgruppe in primavera al 42 quando i tedeschi volevano in consegna ebrei in territorie occupate dalle truppe italiane sono stati consegnati in linea di massima ci sono sempre anche degli esempi particolari e singolari ma questa sfida fra italiani e tedeschi come c'era sui Balcani li consegniamo o non li consegniamo questo era un gioco politico più o meno e questo gioco politico mancava al fronte orientale perché lì era chiaro chi comandava e comandavano i tedeschi quando volevano avere ebrei gli italiani li hanno consegnati e poi quando le truppe italiane hanno occupato nuovi territori nuovi paesi nuove città erano spesso i carabinieri a prendere i redini in mano e una delle prime cose che hanno fatto era l'accensimento della popolazione e chi è stato censito in particolare gli ebrei e i comunisti e il perché è ovvio tutto molto chiaro credo va bene allora guardate siamo arrivati a un'ora esatta di dialogo direi che possiamo arrivare verso la conclusione ringraziamo davvero sia Thomas che Amedeo per questo preziosissimo credo momento innanzitutto qua ne approfittiamo anche per fare un po' di pubblicità progresso appunto invasori non vittime è disponibile in libreria si può trovare tranquillamente ed è una lettura che vale la pena come credo che questa sera sia Thomas che Amedeo abbiano ricordato e sottolineato ampliamente io a nome di Storico Reggio Emilia l'istituto storico della provincia di Reggio Emilia ringrazio Thomas e Amedeo ricordo appunto che ci ritroveremo ancora tante volte durante questo 2023 per ricordare gli altri ottantesimi anniversari storici che segneremo e che possiamo e che potremo celebrare in questo periodo per il momento vi ringraziamo tutti e vi auguriamo buona serata grazie ecco